buongiorno a tutti oggi siamo a lugano per mostrarvi questo appartamento di quattro locali entrando all'interno dell'appartamento come potete notare abbiamo subito delle scale perché questo appartamento si sviluppa su tre livelli cosa importante l'appartamento si trova al quarto piano e non c'è il lift entriamo subito in questa stanza proseguendo attraverso queste scale entriamo nell'anima di questo appartamento veniamo subito accolti dall'area dedicata alla cucina e al living come potete notare rimane un open space molto bello e particolare iniziamo subito dalla seconda camera la camera matrimoniale in questo caso come potete vedere rimane veramente ampio molto luminoso procedendo troviamo il bagno composto di un'ampia doccia specchiera lavabo e vc mentre per quanto riguarda la cucina troviamo il forno nascosto all'interno di questo armadio troviamo poi il frigorifero congelatore lavabo piano cottura in vetro ceramica e lavastoviglie proseguendo come possiamo vedere abbiamo un'altra scala che ci porta ad un soppalco dal quale sostanzialmente sia una vista che domina l'appartamento ritornando al piano dell'area living continuiamo la nostra visita notate che l'appartamento rimane molto luminoso grazie a queste vetrate molto ampie che danno accesso a un terrazzo se vi è piaciuto questo appartamento e volete avere maggiori informazioni contattaci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto